Sale al 18,12 la percentuale di positivi in Abruzzo rispetto ai tamponi effettuati, un numero molto più alto di quello registrato nel corso di questa settimana. Infatti sono 939 nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore nella nostra regione, il dato più alto da inizio emergenza, a fronte di 5183 tamponi eseguiti. Fino ad oggi il record dei contagi era fermo a quota 746, registrata lo scorso 10 di novembre. Si registrano anche 10 decessi recenti, con il bilancio delle vittime che raggiunge quota 671. Dei nuovi casi di coronavirus, 374 riguardano persone residenti o domiciliate in provincia dell'Aquila, 238 in provincia di Teramo, 168 in provincia di Chieti e 115 nelle Pescarese, mentre per 44 pazienti sono ancora in corso le verifiche sulla provenienza. I nuovi positivi hanno un'età compresa fra i 4 mesi del bimbo più piccolo e i 100 anni dell'anziano più adulto. Gli attualmente positivi aumentano di 714 unità ed arrivano a quota 12.622. Nonostante l'incremento repentino dei casi di covid, scende il numero complessivo delle persone ricoverate, che sono 604, meno 20 rispetto a ieri, anche se aumentano i pazienti in terapia intensiva, che ora sono 59, più 2 rispetto a ieri. In terapia non intensiva sono ricoverati 545 pazienti, meno 22 rispetto a ieri. Gli altri 12.018, più 734 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare, con sorveglianza attiva da parte della ASL.